La storia della piccola Talia che sarà operata negli Stati Uniti per provare a guarire una rarissima malformazione ossea, da Terra Nuova ha girato davvero tutto il Valdarno. Il Consiglio Comunale della città di Poggio ha donato l'intero gettone di presenza dell'ultima seduta svolta proprio in beneficenza per aiutare la famiglia in questo viaggio lungo e dispendioso. Non sarà l'ultimo perché è il penultimo comunque di un Consiglio Comunale che si avvia a fine di questa legislatura. È un gesto simbolico perché l'ammontare del gettone di presenza per ogni singolo consigliere ha consentito di raccogliere una cifra di circa 300 euro che quindi è fortemente simbolica e molto minore rispetto a tutta una serie di altre iniziative che fortunatamente abbiamo potuto vedere nel territorio di Terra Nuova e dell'intero Valdarno negli ultimi mesi che hanno testimoniato un cuore grande del Valdarno e di Terra Nuova come sempre. Quello che è a mio avviso un aspetto estremamente positivo è quello dello spirito con cui ha lavorato questo Consiglio Comunale che sinceramente viene testimoniato anche da questo ultimo gesto. Quando da parte di alcuni consiglieri è stata richiesta la verifica della fattibilità di poter devolvere il gettone di presenza appunto alla causa della piccola talia, l'appello è stato raccolto da tutti i gruppi consigliari rappresentati in Consiglio Comunale nella loro interezza e quindi questo penso che sia una testimonianza non tanto di una solidarietà ma di un occhio attento a quelle che sono le necessità della propria comunità e quindi testimoni allo spirito con cui complessivamente il Consiglio Comunale ha affrontato questi 5 anni di legislatura.